Oggi nella piazzetta dei piani di Bolzano ha debuttato ufficialmente il mercato. In tutto 7-8 banchi, un'occasione per permettere ai residenti del quartiere di fare acquisti ma anche un modo per incontrarsi. Un nuovo impulso per il quartiere che negli ultimi tempi è spesso alla ribalta delle cronache non solo per la presenza di prostitute nelle ore serali e notturne ma anche per la presenza massiccia di profughi ospitati nella vicina ex caserma Gorio. Da oggi e per tutti i mercoledì dell'anno il mercato farà tappa fissa ai piani. Sono contenta che finalmente ci sia qualcosa, mancherebbe un po' di frutta e verdura. Sicuramente siamo sulla buona strada se si inizia a fare qualcosa per far vivere un po' di più il quartiere. Guardi, finalmente hanno fatto qualcosa in questa zona che siamo proprio considerati, credo, di serie C né anche di serie B perché non c'è niente. Un'iniziativa resa possibile grazie anche all'impegno degli addetti al commercio ambulante. Era parecchio tempo che volevamo farlo, avevamo richiesto al comune, sono un paio di anetti che ci stavamo sotto perché sapevamo che Rione era poco servito, negli altri mercati andiamo abbastanza bene, pensavamo che fosse una buona opportunità anche qua perché la gente lo richiedeva. Vedo che c'è interesse, mi sembra che siano contenti, speriamo che sia una cosa positiva per tutti. Tutto bene, adesso poi abbiamo individuato anche un posto per il frutta e verdura e probabilmente, senz'altro, dalla prossima settimana cercheremo di far venire anche quello del frutta e verdura. Io sono molto contento di dare vita a questo mercato ai piani, speriamo che vada bene, comunque noi ci proviamo. E sempre oggi in un'altra zona di Bolzano, per la precisione nella nuova piazza di Firmian, è partito il primo mercato del quartiere. È una giornata, come detto, importante, siamo felici perché comunque il commercio ambulante è un commercio in grado di soddisfare anche le esigenze dei cittadini e riuscire ad andare lì dove i negozi non ci sono o dove i negozi hanno chiuso. Noi siamo convinti che la cittadinanza dei quartieri di Firmian, in questo caso, ma anche dei piani, possano apprezzare le opportunità che i nostri commercianti sanno dare. Segnali sicuramente positivi per chi vive e abita in questa nuova area bolzanina che sta crescendo. Noi siamo orgogliosi, diamo un servizio ai cittadini che ci sono qua e speriamo che funzioni. A Firmian è inoltre nata una sinergia con l'associazione Il Papavero a sostegno delle cure palliative, proprio attraverso questo mercato. Noi cerchiamo di veicolare anche dei messaggi, il mercato si cala nel quartiere e lo fa entrando in rapporto con le associazioni del territorio. Quella con Il Papavero è un'iniziativa veramente molto interessante che ci fa grande piacere.